Polli Luia è una modella curvi americana, ambasciatrice del marchio, attivista per la positività del corpo, modella di bellezza, avida viaggiatrice, creatrice di contenuti, star di Instagram, tiktoker, imprenditrice, youtuber e influencer dei social media. È nata il 15 novembre 1991 a Portland, Oregon, Stati Uniti. Il suo segno zodiacale è scorpione. È di origine americana ed etnia bianca. Ha completato la sua scuola superiore a Salem, in Oregon, prima di trasferirsi a Poenix, in Arizona. Luia si è trasferita a Los Angeles, in California, all'età di 19 anni, nel 2012. Attualmente vive a Kansas City. È più popolare tra i fan Grazie e al suo corpo caldo a forma di clissidra. È un'ambasciatrice del marchio di Fashion Nova Curve. Nel 2018 ha anche lanciato il suo marchio di moda chiamato Luia by Holly Luia. Nel 2015, Luia ha iniziato la sua carriera di modella. Ha un fisico molto accattivante. In merito a questo, ha modellato per alcuni capi di abbigliamento, bikini, abbigliamento, lingerie e costumi da bagno di primordine come Fashion Nova Curve, Shane Curve, Dollskill, Reddolls, Pretti Littletins, Blomky che molti altri. Luia ha circa 3,3 milioni di follower su Instagram. Si ritiene che il suo patrimonio netto sia di circa 1,5 milioni di dollari. Le fonti dei suoi guadagni includono modelli, promozioni di marchi e pubblicità. È alta 5 piedi e 7 pollici e pesa circa 68 kg. Il colore dei suoi capelli è castano, e il colore degli occhi è blu. Tipo di corporatura. Formosa. Misure del corpo. Busto, 36 pollici, girovita, 27 pollici e fianchi, 40 pollici. Attualmente ha una relazione. Non dimenticare di iscriverti, condividere, mettere mi piace e commentare questo canale per video più intriganti e grazie per la visione. Grazie a tutti.